Bella a tutti ragazzi, sono Luke Ok, 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 ok Continuiamo, l'ultima volta ho fatto la gara perfetta Checkpoint, tutto grazie al mio migliore amico Ok E adesso invece siamo in una gara Siamo a Barcelona Barcelona, eh Barcelona Barcelona, Grazia Ho sbloccato un... Una macchina che è questa Che fa pena Cioè ragazzi, scusate se lo dico ma fa proprio schifo Poi magari è anche veloce Ma insomma A me non piace E basta La voglio così perché ho voglia di... C'è una bianca Ci sta la bianca, vai Vai Ok, facciamo la gara a Barcellona con la 350Z Versione derapata Allora, passaggio della Grazia Passaggio della Grazia Alla Madrid Barcelona, putta mierda Ho detto Forza Real Barcellona Figli di puttana Perfetto Comunque Real Madrid sempre Più rapidamente completi una richiesta Fan più fa riceverai come ricompensa Cioè, fin qua ci arrivavo anch'io Che novità Ma dai Allora Siete la musica Espagnola Lo cliente Non so che cazzo sto dicendo Che bella la mia Nissan L'ampara è legta Vabbè Oh Questo mi taglia la strada Con quel Audi Si passa e prima Non voglio un po' Dobbiamo passare di qua Passare di qua Merda Sei un pirla Dai che sei un secondo Dai che sei un secondo Cos'hai tempo? Mi nasce la mia L'ho preso? L'ho preso! Gianluca cazzo Ci devi Sbagliato Preso Si Ok Zucchia Ah 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 I oh ah ah I oh ah Ok Questa è la suoneria Della Della tipa Della mia Della Mamma Della mitinia Turbo perfetto Ecco Che sbaglio Mi ho trata Mamma ه Di Ma Eh sì, io ci ho sperato Pure Ah, hanno preso la mia, cazzo Ce n'erano tre, la mia sono andata Qua Posso andare ancora addosso la mia Minchia, che lag Che lag, questo è Format Factory Che sta mettendo a posto i video Da caricare su YouTube, cazzarola Troppi lag Troppi lag Cazzo No Che culo Non vale Ma che la La corsa Qua se tra i cancelli Sì, vabbè, io ci spero anche Ok, ok 1.066 fan Ma mi sa che devo arrivare a 1.100 Ragazzi, ma non è possibile 1.300 Perfetto Cioè Ma l'importante è che sono arrivato prima in questa Poi tanto me la risolvo io qua I problemi Problemi di famiglia me li risolvo io Va bene? Ok, perfetto Basta sparare cazzate Che culo Ok Mi ero anche dimenticato di avere questa Questa cosa qui Ok, perfetto ragazzi Quindi la prossima volta C'è l'ultima gara E poi Senza registrare Cercherò di fare le corse fan Insomma, sì Beh, le corse fan Come cazzo si chiama Lì, gli obiettivi fan Perfetto ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Comentate, condividete, iscrivetevi Seguite i video, il canale e le playlist Ma soprattutto divertitevi Bella a tutti ragazzi Bye look Al prossimo video di Blur